Dovrebbe essere pubblicato entro fine mese o al massimo nei primi giorni di aprire il bando per la valorizzazione del silos NBIC di Genova. Il bando vera predisposto dall'autorità portuale di concerto con Regione Comune, Soprintendenze, Beni Artistici, Architettonici e Università di Genova sulla base di un lavoro corale che ha portato alla definizione di un protocollo nel quale sono indicati gli interventi ammissibili per riqualificare l'ex silos un tempo destinato allo stoccaggio del grano e da anni è stato di completo abbandono. In base a quanto definito nel protocollo, la struttura esterna, in particolare la facciata principale, dovrà essere conservata quale testimonianza storico-industriale. Potrà invece essere modificata la parete posteriore dell'edificio. La destinazione dovrà essere vincolata ai fili commerciali almeno per un 10%, mentre per la parte restante sono ammesse funzioni residenziali e turistico-ricettive. Il banto è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse per aggiudicarsi una concessione di lunga durata per la gestione successiva alla ristrutturazione, il cui costo a carico dei privati che si faranno avanti è stimato fra i 70 e i 100 milioni di euro.